Un grido, una voce potente e una voce sussurrata. Seguendo il cammino delle letture che scandiscono l'ultima settimana dell'anno liturgico, Papa Francesco si è soffermato sulla fine del mondo, una conclusione che riguarderà tutti e ciascuno. Il Pontefice ha messo a fuoco anzitutto il grido dell'angelo che annuncia la caduta di Babilonia che seminava la corruzione nei cuori della gente, l'impero della vanità e dell'orgoglio destinato a capitolare. Poi la voce della folla che loda il Signore e la voce potente dell'adorazione e dell'adorazione del popolo di Dio che si salva, il popolo di Dio peccatore ma non corrotto, fino al sussurro del Signore, un filo di silenzio sonoro che si rivolge al nostro cuore e ci invita al banchetto. L'angelo finisce con questa voce. Quando cominceranno ad accadere queste cose, ossia la distruzione della supervia, della vanità e tutto questo, risollevatevi e alzate il capo. La vostra liberazione è vicina, cioè ti stanno invitando alla nozze del cordello. che il Signore ci dia questa grazia di aspettare quella voce, di prepararti a sentire questa voce. Viene, 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 servo fedele, peccatore ma fedele, viene, viene al banchetto del tuo Signore.